E' stato un lavoro molto impegnativo, ma penso che la firma di questo patto oggi sancisca la serietà di una volontà concreta di risolvere il problema. Il Comune è disponibile a mettere il 50% del finanziamento, questo può essere un valentaggio? Noi pensiamo di sì, il cofinanziamento, il fatto di mettere il 50% è un elemento che dovrebbe essere colto favorevolmente dal Ministero. E il fatto che poi ci sia stato questo lavoro davvero collettivo penso che possa essere compreso e capito. Oggi il Signor Prefetto ci ha detto che andrà direttamente anche a Roma per far capire la valenza di questo progetto che abbiamo costruito tutti insieme. Noi come amministrazione ci crediamo molto, ci abbiamo lavorato da subito, per noi la sicurezza è al primo posto, uno dei temi più importanti che vogliamo affrontare e che stiamo già affrontando. Penso che in questi mesi si sia visto, pur ovviamente la bacchetta magica non ce l'abbiamo, però insomma stiamo lavorando tanto. Il fatto che poi ci sia la possibilità di avere concretamente, come è stato detto stamattina, 20 carabinieri in più e comunque diciamo così questa grande attenzione su Piacenza, ci fa comprendere che abbiamo impostato correttamente il tema della sicurezza. Grazie a tutti.